Ciao a tutti gli amici di Tutti i Pazzi per il Calcio, come potete vedere ci troviamo al campo sportivo Mugnaini dove la UC Sampdoria sta effettuando la seduta pomeridiana di allenamento. Siamo venuti per intervistare i tifosi per chiedere un po' quali possono essere le aspettative per questa stagione appena iniziata e con nostra sorpresa abbiamo incontrato la Iena Rosario che era sulle tracce di Cassano. Rosario, ci puoi dire qualcosa di questa intervista, se è avvenuta oppure no, con Antonio? Beh, guarda, posso dire una cosa molto bella che poi non la so nemmeno io qual è questa cosa bella. In ogni caso, no, seriamente, noi andremo in onda il mercoledì, cominciamo mercoledì 15 settembre e se avete la possibilità di vedere il programma, perché svelare delle cose, se c'è stata o non c'è stata è una cosa che tutto quanto piace, o no, ha sorpresi, c'è l'effetto sorpresa. Ci puoi dire qualcosa, se non sbaglio, qualche mese fa eri già venuto e avevi portato una maglietta ad Antonio, se non sbaglio. Sì, sì, è capitato, sì, siamo stati, mi pare, a febbraio e abbiamo portato due maglietti, due maglietti una con il numero suo, ufficiale, che usava la Sampdoria e l'altra con il numero 22, che nella smorfia napoletana significava uo pazzo, il matto. Quindi, sì, siamo stati già due mesi fa, è stato molto bravo, simpatico, divertente, poi Antonio è uno che dà tanto. Allora, dato che anche noi andiamo in onda il mercoledì, non ci resta che dire ai nostri telespettatori di fare un po' di zapping tra Telegenova e Italia 1. Azz, che se concorrenza è una cosa sleale, niente di meno, ma scusami, ma chi è andato in onda voi? Le ventole te. Eh, buone, eh.